Buongiorno a tutti, allora mettiamo bene la cameruzza, si fa per dire il cellulare e mi raguaglio sulla situazione gigione, perché il gigione è arrivato al punto che gli stanno girando i testi. Quindi stasera chiamerò il lubino per la macchina, visto che continuo a dirmi in settimana gliela faccio avere, in settimana le faccio delle proposte, eccetera eccetera eccetera, io stasera lo chiamo, se mi dice ancora no deve avere pazienza, gli dico guardi la pazienza è morta, quindi io lunedì la chiamo, se mi dice c'è la macchina arrivo, se mi dice ancora così mi spiace andrò a prenderla da un'altra parte, perché io tassativamente questa settimana ce l'ho bisogno. E quindi chiudiamo il discorso, quindi teoricamente settimana prossima avrò il macinino nuovo, la nuova, il macinio mobile, il macinio mobile 2, perché sicuramente non andrò a prendere chissà che cosa. Detto questo, prima notizuola, quindi io spero che oggi, quando lo chiamo nella sera alle 7, perché so che un attimino più tranquillo si fa per dire, dovrebbe darmi finalmente una risposta decente, se no è a me intanto, cioè ciccio, mi ha presentato il mio datore di lavoro eccetera eccetera, ma non abbiamo nulla, io sono libero di andare dove voglio, non è che abbiamo fatto un contratto che devo prenderla da te, soprattutto se da novembre, siamo a metà dicembre, non ho mai offerto una wagon, una Suzuki wagon che è un parallelepipedo e basta, non è nient'altro. E quindi niente, poi questa era la prima questione che spero settimana prossima di dirvi, ho preso la machine. La seconda cosa è successo, è un fatto alquanto incredibile, ho fatto un po' di ordinini su Amazon per i regalini a varie persone, sono andato a prendere un po' di regalini dalla persona da cui li compro sempre tutti gli anni, perché è giusto far lavorare anche i piccoli negozi, arriva un pacchettino, che aspettavo, bello chiuso, sigillato, mi sento è leggero, però ho detto è un regalino, un pensierino, quindi è normale che magari possa essere leggero. Squarto la scatola, si fa per dire, c'era un po', il taglio centrale, apro, carta, è vuoto. Ho detto, madonna, adesso come glielo spiego all'azienda che mi è arrivato il pacchetto sigillato ma vuoto. Comunque ho avvisato l'azienda che me l'ha venduto appunto tramite Amazon, mi fa, ma vedremo di risolvergliela, non si preoccupa, ho capito che vedete di risolvermela, ma io il 23 di dicembre devo andare a portare il regalo alla persona perché farò il giro come sempre, il babbo Gigi, il venerdì 23 di dicembre sarà in giro per i paesini tra Gravedona, Don Guedomaso, a fare la distribuzione di babbo Natale e quindi ho bisogno di avere, è l'ultimo, gli altri sono arrivati tutti, anche gli ultimi che ho preso sono arrivati anche quelli, è arrivato tutto, 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 tutto bello, preciso, lo lasciano fuori dalla porta, bello, tra l'altro non lo tocca nessuno, ieri addirittura c'erano i miei vicini che devono essere dei musicisti che abitano sopra di me, sono un ragazzo, un ragazzo, una ragazza, pipi, 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 che vabbè lasciamo perdere, lui sembra Rocco Ant con più barba e lei sembra Jennifer Lopez ma fa niente, ma comunque beato lui, vabbè detto questo ragazzoli vedremo cosa vi diranno, ma veramente ci sono rimasto, perché forse è stato aperto, uno dice vabbè l'hanno aperto ma hanno fottuto il regalo, no era chiuso, sigillato, non è che c'erano degli strappi o c'era dello scocci d'aggiunta che hanno, no era tutto bello, preciso, si è che probabilmente il commesso nella fretta di fare il pacchetto, capita anche a me quando faccio il salva delle cartelle che preparo, cartelle con news e news, no cosa faccio? vado a prendere la notizia, copia e incolla tutto, lo metti nella cartellina piccola e poi la metti nella cartellina grande tutti assieme, no? Apri il documento di testo come si suol dire, salvi la notizia, fai salva, metti il nome della notizia, inserisci il nome, la data o quello che devo mettere, la metto o nella cartella delle news o nella cartella delle call news sul computer, quell'altro, e poi sono a posto, però ogni tanto cosa succede? Prendo la notizia, faccio il copia e incolla, non la incollo perché mi dimentico, scrivo sul documento di testo che cos'è e lo metto direttamente in cartella, poi mi trovo il documento di testo vuoto, mi capita ogni tanto, ogni tanto infatti mi viene il dubbio, vado a controllare, vediamo se, sì sì, tutto a posto, l'ho salvata, però ogni tanto succede, magari era sopra pensiero, che ne so, era convinto di averlo messo dentro, invece ha chiuso il pacchetto senza, penso, non lo so, perché se no sinceramente non so come fa uno, chi sei? Mandrake, che riesce a togliere lo scotch e rimettere lo scotch senza che mi sembra un po' difficile, so se a voi è mai capitato, a me è la prima volta che succede, perché al massimo, dove abitavo prima c'era il giardino, quindi quello citofonava, ma siccome il citofono della vecchia casa non si sente, perché era dalla, io ho la porta chiusa, dormo, il citofono c'ha sopra anche dei cappotti, eccetera, di fianco, quindi attutisce ancora di più il rumore e quindi non è come nella casa che ho adesso, che a parte che c'è la libidine, perché quando suonano mi si illumina la lucetta, è una figata, c'è la luce che si illumina in russa, e va avanti per un po', non è che fa rumore, e poi il suono è bello, bello forte, senti proprio, e quindi non posso non sentirlo, poi devo dire che i corrieri sono bravi, mi chiamano, buongiorno signor De Stefan dice qua un pacco, e io gli dico, ve lo lasci lì, perché tanto non lo tocca nessuno, qua la gente è onesta, devo dire che qui a Gravedona per ora, per ora, ma anche a Domaso è uguale, la gente è onesta, non è che, ieri per esempio c'era quel paccone gigantesco dei miei vicini che forse era una pianola elettrica o qualcosa di simile, è una cosa per la musica, è una roba di un metro e mezzo almeno, gigante, ho detto, poveraccio che la deve portare anche su, perché penso abiti al primo o al secondo piano, non so quanti piani abbia, perché io so che siamo dieci condomini, ma a parte ogni tanto qualcuno che incontro, buongiorno, buonasera, ma ognuno si fa abbastanza i fatti suoi, a me va benissimo così, non perché sia sociale, ci mancherebbe, però dopo poi cominciano a essere un po' troppo invadenti e non mi piace, già ce li avevo nell'altra, ma cos'hai fatto, ma qua, ma su, ma giù, ma sì, ma che, eh che due coglioni, lasciatemi via, non vi dico nulla, fate quello che volete, comunque ragazzoli, fatemi sapere se a voi capita, vi è mai capitato di trovare un pacchetto che avete comprato su Amazon, lo aprite e lo trovate vuoto, e che reazione avete, soprattutto, io sono stato tranquillissimo e ho chiamato, gli ho detto, guardi, mi dica lei cosa devo fare, perché, eh, non si preoccupi, perché al massimo le facciamo il bonifico di, sì, ma io devo, cioè, questa cosa la devo regalare, cioè, cosa devo fare, quindi domani chiamerò ancora, gli dico, guardi, cosa faccio, ve la riordino e poi mi, perché ce l'ho bisogno, se ve la ordinate, perché ce l'ho bisogno, se non me la mandate, ditemi voi, ve la ricompro e poi mi fate il bonifico per quello che non è arrivato, me la rimandate, basta che mi dite qualcosa, perché ce l'ho bisogno, e il tempo stringe, il tempo stringe, il tempo, tempo vola, come cantava quella là, detto questo ragazzoli, concludiamo il vidione, del gigione, vi ho raguagliato su questa cosina qua, tanto non è che avessi chissà quanti regali da fare, perché comunque sono sempre i soliti, niente di che, però ci tengo che sia tutto organizzatissimo e nessuno rimanga deluso, tanto sono gli stessi che ho fatto l'anno scorso, né più né meno, stesse persone, anzi no, cambiano, cambiano, perché per la questione quella là c'è qualcuno nuovo e qualcuno non c'è, perché l'anno scorso per i mega regaloni per i baristi e per le bariste, per le bariste, diciamo che ho abbondato, ma c'era un motivo che non vi sto a dire, perché giustamente non si dice, quest'anno invece no, più parco, tranquillo, ho chiesto quanti siete, eccetera, eccetera, perché mi sembra giusto a sti poveri, sti povere ragazze, sti poveri che ci sopportano, poracci, ci devono sopportare per mesi e mesi e mesi, every day, every night, mi sembra giusto fargli un pensierino. Quest'anno, ahimè, non c'erano solo pulzelle, ci sono anche due pulzelli di cui, sinceramente, simpatici, bravi, tutto quello che volete, non frega, una beata Giovanna, però, poverini, si sbattono anche loro, sono bravi anche loro, tra l'altro c'è anche un bartender molto molto bravo a fare le cotte, poi è mio fratello di Bulbo, quindi non potevo esimermi fargli un pensierino anche a lui e al collega, pensierini tanto, niente di che, però, è giusto così, e sono arrivati anche quelli, anche pensierini per le bimbe, per le nostre bariste, e anche quelli me l'ha lasciato lì, bello tranquillo, fuori dal nostro ingresso, non l'ha toccato nessuno, l'ho preso, l'ho aperto, c'erano tutti i pacchettini belli, tutti, 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 fatti un po' così perché non ho fatto la richiesta del pacchetto, qua al massimo ci penso io, ma sono messi proprio bene, bellini, 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 come direbbe qualcuno, anche a proposito di cotte, il bellini, bei tempi quando mi bevevo il bellini, invece oramai andiamo a lemon soda, anzi no, perché affinché ho il tassista, posso bere, senza esagerare sempre, che oggi sentivo il video di Heller che dicevano i miei amici che si bevono il vino, questo e quella, ognuno è libero di farsi male così, se ci piace, se ci piace, no, perché qua, perché su, perché c'è, ognuno è libero di fare quello, se la cosa lo fa felice, che te frega, che ti frega, che ti frega, pipipiri, pipipiri, gli ho mandato un video anche a Heller oggi, mi sa che si incazzerà leggermente perché, gli ho mandato un video privato, perché ha fatto i video della maratona ieri sera, che raccontava la legge dell'attrazione, eccetera, e c'erano anche dei ragazzi e delle ragazze che, grazie ai consigli della bella e brava Heller, sono uscite dal tunnel, non so che cosa, però comunque, gli ho fatto una battutina poco simpatica, devo dire che sono stato un po' bastardello, ecco, diciamo così, spero che non si arrabbi, ma tanto non era riferita a lei, a lei gli ho fatto i complimenti, perché è socialmente molto molto utile, andate lì a vedere i video di Heller che meritano, però sinceramente quando ho visto questi ragazzi a queste ragazze, diciamo che sono stato un po' cattivello, ecco, per intenderci, ogni tanto viene fuori il bastardo inside, che è molto latente, ma quando esce è bastardo, è veramente bastardo, come direbbe il, adesso non mi ricordo se era Giovanni o Giacomo che diceva, ma sei bastardo allora? Sì, ogni tanto sì, è bello, è bello essere un po' bastardi, infingardi, come dicevano secoli secoli fa. Vabbè ragazzoni, io vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo ai prossimi video. Nella giornata di oggi vedrò lo sci, finalmente potrò recuperare un po' di gare di sci, mi dedicherò a quello, perché così almeno recuperiamo le gare di due weekend fa, oramai, quasi tre, del 2-3-1, ve l'ho fatta la discesa libera di Like Lewis, poi c'era ancora delle altre discese e quant'altro, ragazzi, ragazze, eccetera, quindi recupereremo un po' di gare, quindi il venerdì lo dedicheremo a quello, anche perché poi abbiamo i bini della settimana di Natale, ragazzi, quella della prossima è già la settimana del Natale, non che a me cambi più di tanto la vita, a parte andare a fare i pensierini che mi diverto troppo, per il resto ormai non è che mi fregno, non che non mi piaccia il Natale, ragazzi, non fraintendetemi, però oramai non lo vivo più come quando eri bimbo, perché quando ero bimbo era una libidine, ricordate sempre sono il principino, infatti c'è fuori dalla porta principe Luigi De Stefani, scusse poco, e quindi regalini ne avevo una marea, piccoli, non è che mi regalassero chissà che cosa, perché per esempio volevo la macchina radiocomandata, mi arrivava la macchina filoguidata, volevo magari il gioco da bar, mi arrivava il giochino quello piccolino della Tiger, per intenderci, poi vabbè i miei quando fecero quel gravissimo errore di farmi perdere i mondiali dell'82, per cercare di farsi perdonare vanamente, perché non potevano, non avevano chance di farsi perdonare, mi regalarono l'intelligio, però fu un tentativo vano, va bene ragazzoli, detto questo, io mi sono dirugato ancora troppo, ci vediamo alla prossima, ciao!